Che sia proprio questa l'idea giusta salva parcheggi? Il mercatino delle pulci di Arezzo che ad ogni edizione muove decine di migliaia di visitatori adesso trova spazio nella sua prima edizione notturna al parcheggio del Baldaccio ad Arezzo. La prima edizione pilota al Mecenate ha già dimostrato che la formula può funzionare ed era stato lo stesso presidente di Atama, Bernardo Bennini, ad annunciare che non sarebbe stato l'unico all'interno dei due multipiani che l'azienda gestisce. La filosofia generale è proprio quella di interessare le persone al parcheggio facendoci anche degli eventi in modo tale che se l'hai visto e hai visto che è vicino al centro ci ritorni. Mercatino delle pulci dunque fermarti sono i due eventi da cui parte il rilancio del parcheggio Baldaccio domenica 24 giugno. Oltre agli espositori ci saranno una quarantina di artisti tra pittori, fotografi, illustratori e writers che porteranno la loro arte sulle pareti, i vetri e le lastre del parcheggio in contemporanea al mercatino. Creazioni che diventeranno permanenti dopo la ristrutturazione del parcheggio. Le bancarelle del mercatino, circa 300, si snoderanno nella parte superiore del parcheggio e nella zona del Parco Ducci per garantire in una notte di mezza, anzi inizio estate, un evento insolito e originale.